Ti sembri una mosca. Signori e signori, il Duomo e le palme, ma soprattutto il Duomo. L'effetto le fa vedere il Duomo. Sempre lo stesso dopo dieci anni. 700 mila euro c'hai il piano terra senza finestre. Parti gli scherzi, qua secondo me con 700k è qualcosa di prezzo, 50 metri quadri. Quanto costo era l'attico qua sopra? Perché ricordo che avevo visto qualcosa sul milione, quindi ha una casa normale, questa fantastica che vaga tra 120 anni di duro lavoro. Quando sono morta, mi lascio a mio nipote. Blu! Ho preso un colpone a passare. Aiuto! Recensione di questo tè frutti rossi. Buono, di che sa? Il tè. È amarissimo. È buono. Perché lui ci mette 7 cucchiaini di zucchero, non è che amato. L'imbarcazione è passata di qua. Aspettava. No. Oggi navighi. Eh, da quanto tempo non venivate zio? No. 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 informazioni, Matteo P4 Grazie a tutti